Si parla sempre di più di musei privati, parliamo di uno che sta per aprire, la Rubel Family Collection. Sono forse la coppia di collezionisti americani più amati del panorama dell'arte contemporanea, in particolare dai giovani artisti emergenti. Hanno appena inaugurato un nuovo museo privato a Miami. Ma la domanda che tutti ci poniamo, ma come sono stati in grado di creare una raccolta di circa 7200 opere, più di 1000 artisti, iniziando da soli 25 dollari? Scopriamo la storia della collezione Rubel, che ha il sapore della favola per tutti i collezionisti. Don e Mera Rubel, rispettivamente un ginecologo e un insegnante, si sposano nel 1964, anno in cui iniziano anche a collezionare arte contemporanea. Iniziano proprio da un budget modesto, soli 25 dollari, corrispondente allo stipendio settimanale dell'insegnante Mera, ed entrambi hanno un occhio per i giovani artisti. Infatti, sin dai primi tempi e ancora oggi, i coniugi Rubel sono sempre andati alla ricerca di opere d'arte senza l'aiuto di Art Advisor o altri consulenti, ma anzi visitando gli studi degli artisti per poi acquisire le opere in galleria. Negli anni hanno individuato veri e propri astri nascenti dell'arte, come Jeff Koons nel 1979, Catherine Opie nei primissimi anni 90 o ancora alla fine del 99 l'artista afroamericano Kerry James Marshall. Tutti artisti che al giorno d'oggi hanno raggiunto quotazioni milionarie. Nel 1993, nel quartiere di Weewood, acquistano il primo spazio per ospitare la loro grande collezione, un ex magazzino della Dea per soli 450 mila dollari. Nel 2019 il valore arriva a 16 milioni di dollari e dopo 26 anni decidono di spostarsi nel vicino quartiere di Allapat per dare vita ad uno spazio di oltre 10 mila metri quadrati con 40 gallerie, una biblioteca e un ristorante. Weewood era prima un quartiere ad alto tasso criminale di Miami, ora è radicalmente cambiato e sono nate boutique e bar, anche per merito dell'effetto Rubel. Sembra infatti che le acquisizioni di Donne Mera, soprattutto in Fiera, producano un effetto dirompente tanto da cambiare radicalmente la vita dell'artista che viene individuato quale talento naturale da coltivare e sostenere. Oggi la Rubel Family Collection prosegue e ha i coniugi da tempo si è unito il figlio Jason con il quale condividono le nuove acquisizioni ampliando la propria raccolta, organizzando mostre e promuovendo residenze d'artista per i giovani emergenti, invitati nell'ottica di ricerca e supporto all'arte contemporanea senza l'occhio speculativo. Perché in fondo la loro è ancora una storia familiare, vista attraverso le opere e gli artisti di quasi 60 anni.